750 abitanti in inverno di cui ben 174 donatori di sangue attivi. È un piccolo grande record quello di Badia Prataglia dove l'associazione Avis può contare per fortuna su tantissimi donatori. Con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando la media regionale parla di un aumento di solo lo 0,1%. Sono 116 maschi e 58 femmine i donatori del piccolo paese montano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il maggior numero di donatori attivi è nella fascia over 35. I risultati come questo non arrivano a caso spiega Luigi Farini attuale presidente dell'Avis di Badia Prataglia. Per quanto ci riguarda posso dire che il paese ha una lunghissima tradizione radicata nel tessuto sociale quindi familiare che consente anno dopo anno di incrementare i nostri numeri in tutte le direzioni. Inoltre c'è l'impegno di un intero paese che sostiene da sempre la cultura del dono. Insomma Badia Prataglia aggiunge Farini ha sempre fatto del volontariato attivo un suo segno distintivo. A tutto questo si aggiunge anche un lavoro capillare fatto da noi tutti per allargare la partecipazione a persone di realtà limitrofe. L'Avis investe anche sulla promozione nei confronti delle giovani generazioni, eventi, gite, azioni direttamente nelle scuole tra i giovani stessi dove è più difficile arrivare per vari motivi. A Badia Prataglia si conta anche un record di donazioni personali che superano di gran lunga la misura del 100 considerata degna di nota. Widmer Ugolini, oggi donatore in pensione, Alessandro Acciai sono due di questi esempi virtuosi.